Ciao a tutti da Valeria. Come vi vedete Brad Pitt in un altro film sulla seconda guerra mondiale? Io me lo immagino così. There you are. A dopo. Perché non sono morto? In gioventù mi è capitato di tutto. E non sono morto. Destino. Vuol dire... che la mia sorte, la mia parte, era questa. Nessuno sa come mi sento. Non sanno quello che provo. Tutti quelli che siedono su quella sedia me la fanno scontare. Mi hanno intralciato in tutti i modi. Ma io non ho mollato. E se Allah mi darà vita, non mollerò. Hocalo, non si vambino. Dopo aver ucciso i nazisti in il Tarantiniano Bastardi Senza Gloria, Brad Pitt è intratativa per recitare in un altro film che descrive la seconda guerra mondiale. Si tratta di Fury per la regia di David Ayer. Secondo il ben informato Hollywood Reporter, Fury si svolgerebbe nel 1945, momento in cui il regime nazista era ormai collassato. Un gruppo di 5 militari dell'esercito americano combattono, a bordo del loro mezzo blindato, di nome Fury, le ultime battaglie contro i tedeschi. David Ayer ha dichiarato che Fury porterà una ventata d'aria fresca a questo genere. Gli uomini che fanno parte della storia restituiscono un ritratto onesto di quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale. E per oggi è tutto, seguiteci su Twitter at FilmisNow. Ciao e alla prossima!